Novas, settimanale di informazione della Regione Autonoma della Sardegna. La Regione chiede più efficienza per i lavori sulle strade della Sardegna. Sclerosi multipla, dallo studio dei dati a un'organizzazione più capillare dei servizi. Partiti i lavori per la Sardegna Arena, casa provvisoria per la squadra Rosso-Blu. Mobilità e trasporti, temi sempre caldi e strettamente legati alle potenzialità economiche della Sardegna. Dopo il patto con il governo dello scorso luglio, con cui la Giunta Piglieru ha assicurato le risorse per interventi incentrati sulle esigenze infrastrutturali dell'isola, si pensi al grande investimento sulle ferrovie e ai 120 milioni per il nuovo sistema di continuità aerea operativo dal prossimo autunno, la Regione spinge sulla mobilità stradale. Il presidente Francesco Piglieru ha incontrato il ministro Graziano Del Rio a Sassari, presente anche l'assessore dei lavori pubblici Paolo Maninched, per condividere e approfondire lo stato di avanzamento di importanti opere stradali. Davanti alle note criticità legate all'attività di ANAS, che intanto ha aperto un altro breve tratto della Sassari Olbia tra oschiri e ozzieri, Piglieru e Del Rio hanno condiviso l'esigenza di individuare per la Sardegna un'organizzazione rinforzata e meno centralizzata per migliorare l'esecuzione delle opere ed evitare ritardi, anche alla luce del disegno progettuale in campo con il governo siglato nel patto per la Sardegna. Questa soluzione secondo noi significa dare più importanza ai cantieri della Sardegna, ANAS ci deve mettere più testa, più capacità di progettazione, più capacità di essere veloce ed efficace. La regione c'è, è pronta a discutere di un modello meno accentrato a Roma, più decentrato in Sardegna, un modello nel quale ognuno può fare la propria parte, collaborando, perché i problemi, quando si creano, quando si generano, e i problemi si generano sempre in un'Italia molto burocratica, possono essere affrontati con più decisioni di quanto è successo adesso, per essere risolti e non per annunciare continui ritardi che non possiamo permetterci. Sono 6.225 i Sardi attualmente affetti da sclerosi multipla, 337 casi su 100.000 residenti, un indice che conferma la forte incidenza della malattia nell'isola, oltre il doppio della media nazionale. E la regione interviene per migliorare l'organizzazione delle prestazioni e di conseguenza la vita dei pazienti, con la rete clinica per la sclerosi multipla, che garantirà un sistema di offerta più equo di quello esistente, con standard di presa in carico, prestazioni sanitarie e assistenza ovunque nell'isola, a prescindere dal territorio in cui si vive. Completare un modello che vede da un lato la alta specializzazione di alcuni centri, che è associato però a un modello di presa in carico di prossimità, cioè si cerca di dare delle risposte vicino al comune di residenza per quanto è possibile, cercando di ridurre i disagi del paziente e del familiare. Compiuto intanto il passo preliminare, ovvero quantificare con precisione il carico della malattia e la sua distribuzione sul territorio regionale. Questi dati oggi sono disponibili grazie al lavoro del tavolo tecnico istituito nel 2015 dall'assessore della sanità Luigi Arru, a cui hanno partecipato professionisti sanitari, pazienti e istituzioni. I dati dicono che la distribuzione della malattia nell'isola non è uniforme, con la maggior prevalenza in Ogliastra e la minore nel territorio di Olbi a Tempio. In generale è maggiore nell'interno rispetto alle zone costiere. Questi dati offrono notevoli spunti di ricerca per indagare sui determinanti endogene ed esogeni della malattia, come ad esempio genetica, esposizioni ambientali, stili di vita. È stata battezzata Sardegna Arena e ospiterà il Cagliari dal prossimo campionato di Serie A. La struttura, che sorgerà nell'area ora destinata ai parcheggi del settore distinti del Sant'Elia, potrà ospitare oltre 16.000 spettatori e sarà la casa del Rosso Blu fino a che non sarà costruito il nuovo impianto. Nei giorni scorsi sono partiti i lavori che vedono occupate 150 persone. Come dichiarato dal presidente Francesco Pigliaro, c'è stato un grande lavoro di squadra che ha visto insieme la società Rosso Blu con le istituzioni regionali. C'è stata una squadra che ha conseguito la salvezza il 30 di aprile sul campo e poi c'è stata un'altra squadra fatta di dirigenti regionali, dirigenti comunali, funzionali, i nostri ingegneri che sono riusciti ad arrivare ad oggi veramente con delle tempistiche brevissime. Adesso sarà la nostra responsabilità invece che i prossimi quattro mesi mantengono quelle che sono invece le tempistiche per completare l'opera e poi la palla passerà di nuovo nelle mani a metà agosto della pubblica amministrazione in un momento magari anche un po' complicato in cui molti sono in ferie perché abbiamo assolutamente bisogno che poi la Commissione Provinciale di Vigilanza e tutti gli enti che sono coinvolti lavorino in questi giorni di agosto per darci la possibilità di giocare la prima di campionato in casa e quindi di fare il sopralluogo definitivo con il parere per l'agibilità dello stadio entro la prima di campionato. Capisco che sono tempi veramente stretti ma abbiamo veramente credo in questi mesi riscontrato una grandissima armonia di lavoro con tutte le componenti della pubblica amministrazione e speriamo che ciò continui. 150 persone, credo 99% sardi a meno che non ci sia qualche continentale che vive qui 150 persone che si alterneranno giorno e notte, sabato e domenica comprese per cercare di completare l'opera. Sono certo che lo faranno con grandissimo orgoglio perché poter dire di aver contribuito a fare lo stadio del Casteldu penso che sia qualcosa che poi al bar, a casa, a pranzo con gli amici tutti vorranno raccontare quindi sono certo del massimo impegno da parte di tutti. Grazie per la visione!